video, ole, modella c'è? ok, perché, ok, girati qua, gira così, è così, perfetto, ok, ok, bellissimo, e poi, guarda, aspetta, ma no, single per sempre, sai? bellissimo, guarda che li portiamo fuori due anche te, tuo amico è venuto stamattina e ha venduto tutto poi dopo, sai, dopo di noi, è venuto a ringraziarmi col cuore, sai, quello, anche io, ole, 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 madonna, ancora la stessa cosa, buh, aspetta, e poi fai questo, poi fai, ah, gira ancora, fai nodo, fai nodo, ah, ole, quel taglia perfetta, sai, patch, patch, guarda, vuoi dire guarda, sai, ah, sì, tu sei poliglotta adesso, ole, ah, ma perché noi polacche siamo quelli più, sai, più, bravo, a posto, ho finito?